I bersaniani piacentini sono stati chiamati a raccolta da Miguel Gotor, parlamentare del PD e consigliere fidato di Pierluigi Bersani. All'appello, in vista del congresso nazionale, hanno risposto in tanti, tra cui molte facce note. Il senatore piacentino Maurizio Migliavacca, il segretario provinciale uscente Vittorio Silva, gli assessori comunali di Piacenza Silvio Bisotti e Giovanna Palladini, poi Carlo Berra, Mauro Rai, Adriana Bertoni, Nino Beretta, Nanda Montanari, Anna Liaregiani e Betti Rapetti. La tesi di fondo di questa proposta? La tesi di fondo è il tentativo di continuare nell'impegno di costruire il Partito Democratico come un partito che sia una mescolanza tra culture e politiche differenti. Questo è il nostro impegno, un soggetto politico che abbia un principio d'ordine e non invece un campo aperto che nei momenti in cui deve affrontare una responsabilità, penso a quanto è accaduto durante le elezioni del Presidente della Repubblica, non si è mostrato all'altezza di questa responsabilità. Anche in questi giorni, forse per le fibrillazioni legate al governo, alla sospensione dei lavori parlamentari, ma anche alla stagione congressuale, il PD sembra abbastanza scosso, sembra non avere pace negli ultimi mesi questo partito. Ma guardi, questa vicenda più recente mi sembra francamente stata esagerata dalla comunicazione e un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua. Si è creato invece un grande polverone, credo un polverone dovuto a delle fibrillazioni, come lei diceva, di carattere congressuale e correntizio, che non fanno bene al Partito Democratico e per questo vanno secondo me condannate. Il contributo di Matteo Renzi al PD può essere importante ancora? Certo, lo è stato, lo è e può esserlo. È un protagonista della vita politica italiana, molto popolare, e questo è importante e può aiutare il PD a essere più forte.